Un etf straordinario, noioso perché non parliamo di high tech, non parliamo di biotech o di cloud in computing, parliamo di un etf semplice che non può mancare in nessuna di vostri portafogli. Scopriamolo insieme! Ben ritrovati, io sono Giacomo e in questa puntata di Segreti Bancari Live voglio parlarvi dell'etf iShares sul Morgan Stanley World, un etf che è straordinario perché vi permette di investire 1.600 titoli diversi e con una sola operazione avere una grande diversificazione a livello globale. Pensate che l'indice Morgan Stanley World è il benchmark di moltissimi fondi, anzi praticamente tutti i fondi azionari internazionali che però la maggior parte dei gestori non riesce a battere. È un indice noioso perché sicuramente se andate a una grigliata con gli amici quando saremmo usciti dalla pandemia non farà figo dire che avete l'indice azionario mondiale, sicuramente sarà più figo dire che avete un etf sul litio, sulle batterie elettriche, ma se voi cercate un rendimento che sia il più possibile costante nel tempo senza avere grossi strappi, questo è l'etf che fa per voi. Nella descrizione vi metto il link dove trovate il codice ISIN e tutte le specifiche di questo etf. Ma parliamo un attimo dell'indice M6 World. La composizione dell'indice è molto vasta perché è formato da 1.583 titoli diversi e pensate che praticamente dal 2007 al 2020 ha avuto solo tre anni negativi. Questo non vuol dire che l'etf cresca anno dopo anno perché gli anni negativi ci sono e ci saranno, però diciamo che la negatività è molto più contenuta rispetto a quella che può riguardare un indice speculativo come il Nasdaq o magari un titolo tecnologico come Tesla. Dal 2000 al 2020 l'M6 World ha reso pressa poco il 6% all'anno con una volatilità del 20%. Questo è molto suggestivo perché ci permette di capire cosa sarebbe successo se noi fossimo entrati su un picco di mercato, che è la paura che tanti hanno, soprattutto oggi, in cui i mercati sono cari. Sto registrando per chi guarderà questo video, ascolterà questo audio in un secondo momento a marzo 2021. Bene, chi avesse investito al picco della bolla i-tech del 2000 avrebbe portato a casa nei vent'anni successivi circa un 6%, che è ragionevolmente anche quello che ci si può aspettare di qua ai prossimi anni. Data questi due parametri di rendimento mettiamo in conto che un anno su 6 ci potrà essere una perdita superiore al 14%, quindi guadagno sì, crescita abbastanza costante sì, crescita proprio rettilinea dove anno su anno abbiamo sempre solo un incremento no, perché gli anni negativi fanno parte della tagada dei mercati come abbiamo visto anche nell'ultimo periodo, ma l'indice tenderà sempre a recuperare e a crescere nel corso del tempo. Perché proprio i shares e non Vanguard? In fondo anche Vanguard ha degli ETF che investono sull'azionario globale. Beh, direi che la scelta è stata fatta per questo motivo, non per il costo, perché credo che Vanguard costi meno rispetto all'ETF i-shares che costano 0,20 all'anno, ma perché secondo me Vanguard è tra virgolette più rischioso, non nel senso che possa fallire Vanguard, intendiamoci, ma nel senso che possa delistare degli ETF. In fondo Vanguard è arrivata sul mercato italiano solo qualche anno fa, potrebbe anche decidere di andare via, perché magari non è un mercato così strategico, mentre i-shares che BlackRock è stato uno dei pionieri degli ETF. Pensate che nel 2002, quando partì il mercato degli ETF in Italia, gli unici due operatori presenti erano i-shares e l'Xor. Quindi avere a che fare con un operatore che è qui da 20 anni mi fa pensare che resterà, perché comunque il loro modello di business funziona. La performance a 10 anni dell'ETF è stata del 203% cumulativo e ovviamente risente del fatto che abbiamo avuto 10 anni di crescita di mercati molto forti. È ragionevole pensare che in futuro non sarà più così, però un 6-7% di rendimento dall'ETF azionario globale io penso che sia assolutamente lecito attendersi. A livello geografico l'ETF ha una sovraesposizione sull'America, che rappresenta il 65% circa del totale, quindi vuol dire che andate a investire in buona sostanza due terzi del vostro capitale sui dollari americani e sulla borsa USA. Questo potrebbe non essere magari opportuno in questo momento, ricordiamo comunque sempre che la borsa americana è la borsa più importante a livello mondiale e di conseguenza se va male l'America è difficile pensare che il resto del mondo vada bene, però diciamo che il messaggio che voglio trasmettervi è che occorre essere consapevoli del fatto che l'MCI World sovrappesa gli USA. Il 15% circa è dedicato all'Europa e circa un 9% al Giappone. A livello di criteri etici il nostro ETF ha un 6 su 10, quindi non è proprio diciamo eticissimo, nel senso che ha delle aree un po' controverse, io credo che nel tempo però gli SG cresceranno, perché effettivamente se tutto il mondo imporrà degli standard di sostenibilità, sia nei confronti dei dipendenti a livello di trattamento, sia come impatto ambientale e così via, anche l'ETF si adeguerà, però sappiate che oggi non è un investimento così etico per quelli che vogliono invece fare un investimento sugli ESG. Quali sono i pro e i contro dell'ETF? Iniziamo dai pro, anzitutto la grande diversificazione perché con un solo strumento comprate 1600 titoli e questo significa che va molto bene per esempio per fare un pack, anche perché avendo la diversificazione in tutto il mondo evitate magari di fare un pack sui mercati emergenti quando i mercati emergenti non vanno più, evitate di fare un pack sull'Italia piuttosto che sull'India o su quello che volete voi, qui abbracciate tutto il mondo quindi è veramente l'ideale per fare i pack. Secondo vantaggio è ideale anche per diversificare portafogli piccoli, perché se voi avete un capitale ridotto comprate questo ETF e aggiungete un ETF obbligazionario magari globale avete una diversificazione a tutto tondo pur con i limiti che abbiamo detto. Gli svantaggi sono anzitutto il fatto che non comprende i mercati emergenti. Esiste in realtà un altro ETF che è di Lixor e che ha come sottostante l'MCI AC World dove AC sta per All Country, emergenti compresi, però sta di fatto che il peso degli emergenti è così piccolo da restare trascurabile. E il secondo svantaggio, l'abbiamo detto, è che ha un sovrappeso degli USA, quindi non solo vi espone al rischio cambio nei confronti del dollaro, ma comunque vi espone sostanzialmente a un investimento sulla borsa americana. Questo è capitato nel corso degli anni perché quando io lavoravo in banca vent'anni fa mi ricordo che più o meno il peso degli USA era 50%, poi è cresciuto nel corso del tempo. Se non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra che gli indici Morgan Stanley siano indici a capitalizzazione, quindi la borsa USA è cresciuta, è cresciuta di capitalizzazione, di conseguenza è cresciuto anche il suo peso all'interno del totale. Se volete fare un investimento consapevole comprate questo ETF insieme anche ad altri in maniera coerente con la vostra strategia di investimento. Se avete dubbi seguitemi sul canale di YouTube di Segreti Bancari o iscrivetevi al podcast per restare sempre aggiornati sui vari contenuti che pubblicherò.